Abbiamo le due regioni del sud, iniziamo con la Campania, con una copertura del 3%, margine d'errore poco meno del 2%, che vede davanti Vincenzo De Luca per il centro-sinistra al 66,8%, Stefano Caldoro del centro-destra al 19,2%, segue Valeria Cerambino del Movimento 5 Stelle al 10,6%, mentre i restanti quattro candidati cubano complessivamente il 3,4% delle preferenze.